Non una semplice sfilata, ma una celebrazione della forza, della resilienza e della rinascita. Ad Andria le associazioni Onda d'Urto e Wonder Woman, con la collaborazione dell'assessorato alle radici del comune, si sono unite per realizzare un evento di bellezza che ha visto protagoniste donne oncologiche ed ematologiche. Proprio loro, sfilando nella suggestiva cornice della villa comunale, hanno manifestato al mondo la voglia di vivere la determinazione e il coraggio. Durante l'appuntamento anche un momento speciale dedicato al ricordo di coloro che sono rinati a vita nuova. Obiettivo principale della serata? Sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione, della ricerca e del supporto alle persone affette. da queste malattie.